E adesso cambiamo argomento simili ma diversi. Parliamo del Vincenzo Florio e del Falcone Borsellino, due aerostazioni siciliane, il primo Trapanese e il secondo Palermitano ed ancora il primo con un trend passeggeri in decrescita e il secondo in netta crescita. I dettagli appaiono davvero inquietanti i dati di Asso Aeroporti sul movimento passeggeri in Sicilia ed in particolare sull'aeroporto trapanese nel gennaio 2019. Annovolato da Epper Trapani 32.773 passeggeri con una flessione del 9,4% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Su base annua la flessione è ancora più drammatica. Nel 2018 l'aerostazione Vincenzo Florio ha registrato 480.524 passeggeri con una flessione del 62,8% rispetto al 2017. Negli anni d'oro di Rainer tra il 2009 e il 2013 il dato ha sempre superato il milione di passeggeri raggiungendo il suo massimo nel 2013 con 1.878.557 passeggeri. Il dato economico conseguente della crescita dell'aeroporto di Birgi è stato lo sviluppo delle attività turistiche e l'aumento della reddittività delle strutture ricettive, dei servizi al turismo. Il declino è storia recente, intanto si susseguono marce di proteste e manifestazioni per ribadire che in questo momento Trapani non è terra di nessuno. Risale giusto a ieri la sforiata di Tranchida che ha puntato il dito direttamente contro Orlando accusandolo di cannibalismo nei confronti del territorio trapanese. Il nodo avrebbe spiegato Tranchida a margine del convegno svoltosi ieri per area vasta. Ha una sua storia, Rainer assicurava su Trapani 2 milioni di arrivi con un corrispettivo di 7 euro a passeggero. Palermo fa gocito nel tempo Birgi offrendo 11 euro a passeggero a Rainer dirottando 2 milioni di passeggeri da Trapani a Palermo. Un'operazione di fatto deprecabile di cannibalismo politico. Una cosa è riempirsi la bocca di parole, l'altra cosa invece è fare sistema col territorio e mi pare che tra Palermo e Trapani non si vada d'accordo. Al sindaco Orlando continua Tranchida, ho detto con forza e chiarezza che non si può venire in questa provincia a parlare di area vasta, sistema integrato e volemose bene, quando invece si pensa di continuare a cannibalizzare il nostro territorio che per la sua vocazione naturale punta il suo futuro sull'unica industria strategica di cui può godere il turismo. Intanto diverso la situazione per Palermo che con l'aerostazione di punta a Raisi per aver fatto il botto, il traffico passeggeri aggiornato al 2018 supera di gran lunga i 6 milioni con un incremento rispetto al 2017 di oltre 800 mila viaggiatori pari ad un più 14,75%, massimo storico esilarante che guarda al passato dall'alto e che vede al primo posto fra le top 5 delle compagnie aeree scelte proprio Rainer. Che dire, una medaglia, due facce, una estremamente oscura, l'altra fin troppo soleggiata.